Qualcuno su questo treno non è un pendolare. Tutto quello che deve fare è trovarlo. Per chi dovrei farlo? Avrebbe una ricompensa. Trovi la persona, trovi quella borsa e avrà 100.000 dollari. Una vita di abitudini. Un momento, cos'è questo? Un avvertimento. Loro la tengono d'occhio. Poi, un giorno, una sfida. Chi sei tu? Calma, calma! Perché mi stai seguendo? Questo treno mi sta spaventando. Un gioco pericoloso. Che ci fai tu su questo treno? Voglio vedere come va a finire. Quella donna vuole incastrarmi. Mi hanno detto di ucciderti o avrebbero ucciso mia moglie. Vera farmica. Liam Neeson. In prima visione. L'uomo sul treno. Giovedì alle 21.20. Su Rai 2.